Musica Servirà tutta la mia abilità e tutta la nostra fortuna per far scattare una trappola da tempo ordita Alla fine, tutto sarà deciso qui nei campi del Pelennor dinanzi ai portali di Minas Tiri Da sud, Aragorn sarà al comando di un esercito dell'Oltretomba ma sarà forse troppo tardi? Perché contro la nostra forza lo Scuro Signore evocherà sia uomini che bestie Il più potente e terribile esercito che si possa immaginare E da Nord, al mio richiamo Rohan cavalcherà in guerra verso la fine del mondo Ecco che arrivano Esterly Orchetti Sforziamolo Esterly Ma è per il che voglia non può rontarci Ove un bel resto Avanti Non abbiamo abbastanza ruolo Sono soltanto due eserciti Che la batteria ci raduni Che la batteria ci raduni Non abbiamo fosciato Allaiesta Quattro Sunti Sunti Quattro Quattro Ho Quattro Quattro Fin Fin Pref Fin Quattro Quattro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.